Continua il lavoro della San Cataldese nell'intento di migliorare la rosa disposizione di Pietro Infantino. Il mese di dicembre, infatti, in Serie D è sinonimo di calcio o mercato. La società Verde Amaranto, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato di aver rescisso il contratto con Salvatore Treppiedi, Samuele D'Agosto, Giovanni Leonardi, Francesco Taormina e Raul Torregrossa. Mese di dicembre molto intenso per la Serie D e quindi per la San Cataldese, con la società impegnata nel delicato tentativo di migliorare la rosa disposizione del proprio allenatore, cercando di non destabilizzare la squadra impegnata in un'appassionata lotta per la salvezza. Non si ferma, infatti, il campionato. Così, dopo il pari interno con il Locri, domani alle 14.30 andrà in scena la diciassettesima giornata di Serie D, Girone I, con la San Cataldese che farà visita al Paternò, reduce dalla pesante sconfitta contro la Cireale. Una trasferta delicata per i ragazzi di Infantino alla ricerca di una vittoria che regalerebbe un Natale più sereno a tutto l'ambiente. Le altre partite del diciassettesimo turno tutte in programma domani alle 14.30. Castrovilla-Ricanicattì è rinviata per Covid, Catania-Trapani, Città-Santa-Agata-Cireale, Città-Novese-La-Mezziaterme, Licata-San Luca, Locri-Realla-Versa, Mariglianese-Santa-Maria-Cilento, Vibonese-Ragusa.